E' di pochi giorni fa l'acquisizione definitiva da parte del comune di Capaccio Pestum dell'ex cinema Miriam in piazza Santini, immobile ormai abbandonato e faticente che l'amministrazione comunale punterà a rivalorizzare. Il sindaco Franco Alfieri ne ha parlato in diretta su Cilento Channel. Quando inaugurammo il teatro dei Filippo ad Agropoli, dissi che il teatro in una città è un diritto. Nella città dei templi sono decenni che manca e il cinema Miriam è un edificio abbandonato. Nel mio programma d'amministrazione c'era già l'indicazione di recuperarlo. Abbiamo velocemente stipulato un accordo con la proprietà e firmato l'atto pubblico. L'opera è già finanziata. Il 9 giugno verrà demolito l'edificio. Mi auguro che a dicembre del 2021 si potrà ridare la cultura, intesa come cinema e teatro, anche a Capaccio Pestum. Quando si mantengono le promesse anche in tempi rapidi, afferma Alfieri, si grida al miracolo. Ma si tratta solo di essere decisi ed efficaci, far camminare la macchina amministrativa senza perdere tempo. Il primo cittadino capaccese ha discusso anche dell'idea di come sarà strutturato il nuovo cinema. Parliamo di una struttura che sarà simile al dei Filippo di Agropoli, al di sotto dei 500 posti perché al di sopra c'è la necessità della presenza dei vigili del fuoco sempre. La cultura è costosa, è un diritto che può essere in perdita e non dobbiamo ragionarci su, soprattutto nei centri più importanti. Le dimensioni saranno uguali, sarà una struttura destinata al cinema, al teatro, alle scuole, alla danza, ai convegni. È multifunzionale, ci auguriamo che la gestione possa non produrre debiti, conclude così Franco Alfieri.